Tanta gente sulle mura per godersi il sole della tarda mattinata. Una normale domenica di quasi primavera a Lucca, ma una calma quasi eccessiva e alcuni cartelli agli ingressi degli esercizi commerciali ci dicono che non è vero. L'emergenza coronavirus c'è anche da noi, anche se non siamo in Nord Italia. Chiusi cinema e teatri, musei, pub, sale giochi, sale bingo e simili, oltre alle manifestazioni sportive. Le persone che girano per la città, almeno quelle che intervistiamo, non sembrano manifestare paura. Si passa da chi è moderatamente preoccupato a chi quasi ci scherza su per sdrammatizzare. Sentiamo che cosa hanno detto al nostro microfono a partire da questa comitiva di turisti della zona di Firenze. Si cerca di viverla meglio che si può, un po' si sta in casa, poi un po' si esce, anche se no si muore per altre cose invece per il coronavirus, si muore di tristezza e di legna. Un po' di preoccupazione c'è? Certo, un po' di preoccupazione, comunque stando all'aria aperta il rischio dovrebbe essere minimo. Non più di tanto, sinceramente a quanto pare sembra la gravità sia limitata, poco più di un'influenza, per cui essendo in buona salute non mi preoccupo più di tanto. È cambiata la vostra vita nelle ultime due settimane? Un po' sì perché non si esce più, non si vuole a ristoranti, queste cose qui, si stanno un po' più attenti, però non di più. Anche sul lavoro si stanno più attenzione, però non proprio stare in casa. Attenzione ma niente panico in sostanza. È cambiata perché si vede che anche se uno gira un attimino così c'è pochissima gente, poco traffico. Anche gli esercizi commerciali che devono far rispettare la distanza di un metro tra i clienti cercano di adeguarsi alla nuova situazione, come questa pizzeria. Eh certo, l'allatimismo purtroppo l'ha fatta padrone. E voi che cosa cercate di fare? Noi abbiamo cercato di proteggere i nostri clienti e anche noi mettendo questo apparecchio per sanificare le mani. Abbiamo diviso i tavoli come da nuove normative e guarderemo che cosa ne verrà fuori. Una notazione sui musei. In realtà quelli della cattedrale di Casa Puccini erano aperti nonostante il decreto. Ci hanno detto, almeno quello di Casa Puccini, che chiudono da lunedì. Di affollamenti all'ingresso comunque non ne abbiamo visti.